Buongiorno a tutte e a tutti. Come Nexi siamo ogni giorno a fianco delle nostre banche partner per supportarle nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo fondamentalmente due obiettivi. Innanzitutto quello di rendere la vita ai cittadini più semplice, con sistemi e soluzioni di pagamento che siano sempre più veloci, semplici, sicure ovunque. In secondo luogo aiutare la pubblica amministrazione nel percorso che ha intrapreso di efficientamento attraverso il digitale, la semplificazione dei processi e di tutto quello che è necessario per riconciliare un complicato mondo, anche amministrativo, verso i cittadini. Per questo abbiamo lavorato negli ultimi anni con più di 300 amministrazioni centrali e locali e sviluppato già le prime soluzioni che sono sul mercato. Il nostro impegno è di continuare a farlo in futuro a fianco delle nostre banche e a fianco dell'importantissima iniziativa di Alpia. Grazie a tutti e buon lavoro.